Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi sveleremo tutti gli amori passati di Sandra Milo, avuti nel corso della sua carriera nel cinema e nella TV. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Sandra Milo, musa di Federico Fellini, si è spenta a 90 anni, il 29 gennaio 2024, lasciando dietro di sé una vita piena di successi professionali e intensi amori. La sua prima unione fu con il marchese Cesare Rodighiero a soli 15 anni, un matrimonio breve e segnato dalla tragedia di un figlio nato morto, che portò all'annullamento delle nozze dopo soli 21 giorni. Il secondo marito, Maurice Ergas, produttore cinematografico greco, le diede la prima figlia, Deborah, la cui vita iniziò con un evento miracoloso, dichiarata morta alla nascita, fu poi riportata in vita grazie all'intervento di una suora successivamente beatificata. Questo legame fu caratterizzato da turbolenze, con la Milo impegnata in 44 processi civili e penali per ottenere l'affidamento della figlia. Ottavio De Lollis fu il suo terzo marito, con cui ebbe altri due figli, Ciro e Azzurra, ampiando così la sua famiglia. L'ultimo matrimonio fu invece nel 1990, con il cubano Orgue Ordones, un'unione breve che, secondo alcune voci, sarebbe stata orchestrata per attirare l'attenzione dei media. Nel corso della sua vita, dunque, di quattro mariti solamente due le hanno dato la gioia di diventare madre. Ogni matrimonio ha aggiunto un capitolo sia felice che doloroso alla sua storia personale, riflettendo la complessità delle sue esperienze amorose. Nonostante le difficoltà, l'attrice ha sempre mostrato una resilienza straordinaria, affrontando perdite e sfide legali per il bene dei suoi figli. La sua scomparsa segna la fine di un'era, lasciando un'eredità di talento, forza e dedizione alla famiglia che continuerà a ispirare. E tu cosa pensi della vita amorosa della Milo? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.